Il ponte vecchio di Caronia è costruito nel lontano 1555, un ponte che rappresenta anche un simbolo importante della storia di Caronia e che purtroppo nelle scorse settimane ha subito un altro cedimento. L'amministrazione comunale di Caronia è a caccia di fondi per recuperare ciò che resta del cosiddetto ponte vecchio realizzato nella seconda metà del 1500, oggi in disuso ma che per diversi secoli rappresentò un'importante via di collegamento tra il centro abitato e le zone produttive di calce e carbone oltre che agricole. Nelle scorse settimane l'incuria e l'abbandono hanno portato al crollo della seconda delle tre arcate del ponte a schiena d'asino e denominato Aureliano per via dell'equivoco che per anni ha visto nella via Valeria quella via Aurelia che in realtà si trova da tutt'altra parte. La grande arcata centrale del ponte vecchio fu distrutta nel 43 dai tedeschi per motivi strategici. Il ponte realizzato nel 1555 che era diventato un elemento centrale di un itinerario turistico proposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cologio Roberingheli in collaborazione con l'assessore alla cultura Vittorio Alfieri versava in condizioni precarie con la vegetazione che comprometteva la stabilità della struttura. Nel 2011 era stato richiesto un intervento di somma urgenza secondo una stima servivano circa 100.000 euro da allora sulla vicenda calò il silenzio sino a poche settimane fa quando si registrò il crollo di una delle due arcate alla base del cedimento fosse le abbondanti precipitazioni che avevano appesentito il ponte dove negli anni si era depositato del terriccio assieme alla vegetazione. Adesso di quel crollo avvenuto di notte e che per fortuna non ha provocato danni ai passanti restano i conci a terra che costituivano la struttura. Un pezzo di storia sta lentamente scomparendo e chi dovrebbe tutelare questi monumenti del passato sta inerte lasciando tali beni abbandonati al loro destino. L'assessore alla cultura del comune di Caronia Vittorio Alfieri archeologo che da anni si batte per la tutela del ponte auspica che si possa recuperare il tempo perduto e che tutte le autorità competenti possano avviare in tempi utili le azioni finalizzate a recuperare la storicità del monumento. E torneremo a occuparci ancora del ponte vecchio di Caronia nelle prossime edizioni con un'intervista all'assessore alla cultura Vittorio Alfieri. Parliamo adesso del ponte vecchio di Caronia come vi abbiamo già riferito ieri in un nostro servizio un nuovo crollo è stato registrato a Caronia in questo simbolo del passato un simbolo del 1555 che rischia di scomparire per sempre. Ne parliamo con l'assessore alla cultura Vittorio Alfieri. Il crollo di Ponte Vecchio si poteva evitare? Beh sì, è una delle tante vittime designate in questo caso purtroppo è avvenuta la tragedia dei beni culturali della provincia di Messina parlo per il territorio che conosco meglio ma in Sicilia questo discorso vale un po' per tutte le province è un caso in cui già nel 2011 l'amministrazione Beringhelli aveva chiesto l'intervento di sommorgenza alla sovrintendenza di Messina che si era spesa rivolgendo la richiesta in assessorato ma poi già nel 2012 si è arenato tutto quindi negli ultimi tre anni diciamo che il malato si è aggravato fino a quando è morto nel caso di quell'arcata. Ecco questa era l'unica arcata che è rimasta diciamo al suo posto? No, in realtà ne rimane ancora un'altra il ponte si compone di tre arcate quella più grande centrale che fu fatta esplodere nel corso della seconda guerra mondiale dai tedeschi mentre arretravano per non essere inseguiti l'arcata lato ovest quindi lato Santo Stefano di Camastra per intenderci è quella che è crollata lo scorso mese di aprile rimane l'arcata lato est quindi lato abitato di Caronia che ha seri problemi e necessità di interventi. Cosa si può fare quindi e quali sono i tempi? Già noi abbiamo richiesto con il sindaco un incontro con la sovrintendenza c'è già stata e è venuta la dottoressa Marisa Mercurio dei beni paesaggisti cerchitettonici della sovrintendenza di Messina con i suoi collaboratori per avviare l'itere per la richiesta della sommorgenza per l'arcata che rimane e quantomeno mettere in sicurezza ciò che rimane dell'arcata crollata recuperare il materiale storico che va preservato e quantomeno mettere in sicurezza quell'area parliamo di grandi interventi di circa 100.000 euro quindi non è una cifra che si trova così facilmente visto i tempi che corrono. Il ponte vecchio di Caronia è uno dei ponti più belli appunto presenti sul territorio? Sì è uno dei più belli, è uno dei più grandi è uno dei monumenti documenti nel senso ha fatto veramente la storia degli ultimi cinque secoli sicuramente forse anche di quelli precedenti perché secondo alcuni è romano ma in ogni caso anche se è seicentesco come sembra dal momento in cui fu costruito nel 1555 ad oggi è stata l'unica via di comunicazione quindi di incontro tra le persone di scambio delle merci tra praticamente il versante est il lato messinese e quello ovest diciamo del palermitano perché la fiumara di Caronia è molto imponente molto ampia nei mesi invernali è anche impossibile da attraversare senza questo mezzo di comunicazione grazie a tutti grazie a tutti